Grazie. Vi ripresento la squadra qui prima di annunciare il nostro grandissimo ospite. Vi ripresento a un anno. Inizio da qui dai miei vicini del piano di sopra, i nostri due fiatisti. Il primo suona la kena, il sax, cosa c'è da? Un sacco di altre cose. Maestro Mauro Zagheri. Siamo a lui direttamente dal Perù, Alfredo Peralta. Dal Perù alla Bolivia, Gerson Haimes. Come in questa etapa, questo è un gruppo multietnico. Siamo quattro salati, due latinoamericani e l'unico italiano, Roberto Arzuffi, da Milano. Da Milano, direttamente a Tortolini, Luigi Magna. Anche lui arriva da Milano, ma è il più umorese di me. Nostro direttore, Stefano C. Navoro, Franco Mamelli.